Il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, insieme al Commissario per la Ricostruzione, Piero Farabullini, all'Assessore regionale, Angelo Sciapichetti, al Consigliere regionale, Francesco Micucci, al Sindaco di Bolognola, Cristina Gentili e al Direttore Ufficio Speciale Ricostruzione, Cesare Spuri, ha consegnato a 10 famiglie del posto le chiavi di abitazioni appena ultimate e inaugurato poi due strutture ricettive adiacenti agli impianti di sci. Le case denominate Villa Marconi rappresentano la seconda opera pubblica nel comune ad essere realizzata dopo la ricostruzione dell'edificio dell'ex caserma del Corpo Forestale dello Stato, usato dallo stesso comune per alcune abitazioni e per la sedia temporanea degli uffici. Tripla inaugurazione a Bolognola, la seconda opera pubblica, il comune più piccolo del sisma, è stato quello che è stato in grado in un arco di un anno a inaugurare due opere. È un bellissimo segno, grande capacità e efficienza, sappiamo la determinazione del sindaco di Bolognola nel fare le cose e quello che vorremmo vedere è un po' in tutto l'area del terremoto. Oggi sono 75 le opere inaugurate, rappresenta solo un 1% del valore economico messo a disposizione, significa che c'è ancora un 99% che deve arrivare fino in fondo. 100 opere che stanno in corsa nei lavori, un po' di più già in fase avanzata di progettazione, quando chiediamo la semplificazione delle opere perché vorremmo vedere tante giornate come questa. All'inaugurazione della struttura pubblica due privati che investono con grandissima qualità, l'invito ovviamente a venire a Bolognola a vedere quello che è stato fatto, perché è un percorso, un viaggio che restituisce tantissimo, tanta qualità, tanta passione, un'accoglienza straordinaria, le marche rappresentate al meglio. Quindi nella riapertura dei locali un'opportunità certamente di lavoro per chi è qui, ma anche una grandissima opportunità per chi decide di venire e sicuramente non rimarrà deluso.